Musica Ben ritrovati all'appuntamento con il TG Oggi News, apriamo questa edizione parlando di calcio e della saleritana vigilia di campionato perigrata di ventura che domani alla Rechia alle ore 18 scenderanno in campo per affrontare il Pescara nella partita inaugurale del campionato 2019-2020, ventura però già in emergenza per le assenze di Billong e Lombardi È la vigilia del debutto in campionato per la saleritana manellaia, non si respira l'attesa per la prima, non c'è stata la corsa all'abbonamento né quella al biglietto e del resto la politica del rincaro dei prezzi adottata dalla società non è stata certo apprezzata dalla gente non è solo una questione meramente economica ma è qualcosa di più alto che forse continua a sfuggire alla proprietà romana molto attenta ai conti ma poco inclina ad ascoltare e ad intercettare il sentimento popolare Lo dicono i fatti, non ce ne vogliano i patroni che hanno disertato i primi appuntamenti stagionali della Rechia e che forse saranno presenti domani in occasione della gara con il Pescara non basta presentare alla maglia celebrativa il nuovo allenatore per sentirsi in pace con la coscienza il dovere di un proprietario di un club è quello di scrivere la squadra al campionato, di tenere i conti in regola ma anche di preservare ed alimentare la passione della tifoseria L'Otito e Mezzaroma dovrebbero provare ad osservare i volti delle persone prima, durante e dopo le partite interne da quei volti ormai sono quasi spariti entusiasmo, passione, speranza, voglia di sognare anche chi va allo stadio è deluso non meno di chi ha deciso di non andarci perché sono troppi i punti di domanda a cui la società non ha fornito risposte soddisfacenti quel comunicato diffuso nei mesi scorsi suona oggi ancora di più come un disperato tentativo di salvare il salvabile promettendo qualcosa di grosso proprio mentre si era ad un passo dal fallire anche l'obiettivo minimo, cioè la salvezza dopo aver promesso la Serie A, L'Otito e Mezzaroma hanno ingaggiato Ventura, ottimo tecnico ma anche confermato il direttore sportivo Fabiani, responsabile in solido con i patron di quattro anni contraddistinti da altrettanti fallimenti tecnici per poi varare una mezza rivoluzione concettuale sul mercato, puntando sul con i giovani di area Lazio nella speranza che siano buoni oggi per consentire alla Serenitana di disputare una stagione decorosa e che un domani possano poi fare le fortune del club bianco celeste intanto però domani mancherà non solo Billongo, rimpiazzato da Migliorini al centro della difesa ma anche Lombardi per cui sulla destra Ventura dovrà probabilmente lanciare Cicerelli uno che avrebbe caratteristiche ancora più offensive rispetto a Lombardi ed anche a Chine l'alternativa potrebbe essere proprio il marocchino con Lopez a sinistra insomma la prima giornata Ventura e Gena Emergenza e questo la dice lunga all'esordio in campionato ci si augurava che la Serenitana potesse presentarsi al completo quasi ma il mercato è andato a strappi e non ha ancora portato in dote tutti i rinforzi chiesti da Ventura e così domani bisognerà stringere i denti, fare l'incessità virtù contro un pescare ambizioso ma a sua volta non al completo in attacco spazio a Giannetti e Iallov in attesa di Cerci e magari di un bomber di spessore che possa arrivare dal mercato da domani si va in campo per vincere e convincere e la Serenitana dovrà farsi trovare pronta nonostante tutto in seguito ascolteremo le dichiarazioni di Giampiero Ventura scade intanto il prossimo 18 settembre il bando da un milione e mezzo di euro per selezionare l'impresa che dovrà realizzare la bretella tra Rione, Petro, Sino e via Fratelli Magnone un bypass che consentirà di superare l'attuale passaggio a livello Due anni dopo il decreto regionale per la realizzazione della strada di collegamento Rione, Petro, Sino e Fratelli Magnone firmato dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca c'è finalmente il bando per la bretella definitiva che diventerà un asse di comunicazione strategico per la mobilità urbana ed extraurbana del comune capoluogo contribuendo a decongestionare i flussi veicolari in entrata e uscita dal capoluogo oltre che sulla direttrice di via Irno Lo scopo principale di questo nuovo collegamento viario è infatti quello di creare un percorso alternativo che consenta agli automobilisti di bypassare il passaggio a livello ferroviario che si interpone per l'accesso a via Irno o alla rampa della tangenziale Si tratta del segmento strategico di un più ampio intervento è scritto in una nota dell'amministrazione comunale di Salerno già previsto dai lavori del bando periferie che si svilupperà in direzione Brignano e modificherà completamente la circolazione in uno dei punti nevralgici della mobilità cittadina L'importo del bando, la cui data di scadenza è fissata al prossimo 18 settembre di un milione e mezzo di euro Solo in queste settimane, ricorda il comune di Salerno sono stati pubblicati bandi importanti per la prosecuzione dei lavori quello per il ripascimento del litorale cittadino o per la ristrutturazione di Corso Vittorio Emanuele In un momento economico molto complesso per l'Italia ricorda il comunicato del comune di Salerno si investono risorse importanti per l'ambiente, il decoro urbano, la mobilità e la sicurezza con importanti benefici per le imprese e i lavoratori e il miglioramento della qualità di vita e attrazione della città È stato necessario l'intervento di un'eliambulanza questa mattina ad Ogliara dove un uomo è rimasto intrappolato in un incendio riportando diverse ustioni l'emergenza si è verificata intorno alle 11.30 a darne notizia all'Humanitas che è intervenuta con i propri mezzi in via Seniginella secondo una prima ricostruzione l'uomo, un pensionato di circa 80 anni forse nell'intento di dare fuoco ad alcune sterpaie ha perso il controllo ed è rimasto intrappolato in un incendio di grosse dimensioni sul posto la polizia, l'ambulanza rianimativa il South Humanitas, oltre naturalmente a due equipaggi dei vigili del fuoco come dicevamo è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso di Salerno la vittima, dopo essere stato stabilizzato a terra dagli operatori sanitari è stato trasportato a Napoli con il mezzo aereo traffico in tilt questa mattina sull'autostrada 2 scontro tra due camion all'interno della galleria Sant'Angelo all'altezza del comune di Postiglione quattro feriti drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi sulla 2 del Mediterraneo che ha provocato il ferimento di due persone alla guida dei rispettivi mezzi di cui uno in maniera grave l'incidente ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti un auto articolato ed un autocarro l'episodio si è verificato nella galleria Sant'Angelo della carreggiata sud tra Contursi e Sicignano degli Alburni al chilometro 53.400 nel territorio di Postiglione non sono note le cause del sinistro che ha portato al grave ferimento dell'uomo alla guida dell'auto articolato drammatiche le immagini apparse ai soccorritori all'arrivo sul posto ad avere la peggio l'auto articolato con il trattore stradale che a seguito del violento impatto si è ribaltato frontalmente restando però attaccato al semirimorchio è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consina guidati dal caposquadro Eugenio Siena e del distaccamento di Eboli per riuscire a liberare l'autista dalla cabina rimasta schiacciata sull'asfalto immediato anche l'arrivo sul posto dei sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti le condizioni dell'autista dell'auto articolato sono apparse subito gravi è quindi stato disposto l'immediato trasferimento presso l'ospedale Luigi Curto di Polla dove sono state riscontrate diverse ferite e traumi dopo le operazioni di stabilizzazione delle sue condizioni l'uomo è stato trasferito presso l'ospedale di Vallo della Lucania pare comunque che non sia in pericolo di vita l'incidente verificatosi intorno alle ore 8 di questa mattina ha provocato numerosi disagi al traffico con il personale ANAS che è stato chiamato ad intervenire per la gestione del traffico autostradale e velocizzare le operazioni di ripristino della viabilità sul posto anche la polizia stradale di Eboli che oltre alla gestione del traffico e le verifiche di sicurezza per gli automobilisti hanno effettuato i rilievi sull'incidente per appurare le cause dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità Attipaglia si prepara a fermarsi per le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico fissate per il prossimo 8 settembre tutti i dettagli nel prossimo servizio Per affrontare l'emergenza per il pagamento delle spese e per garantire la piena attuazione del piano operativo di evacuazione previsto per domenica 8 settembre a Battipaglia per il disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto a marzo scorso in località Villani lungo la SP 135 la regione Campania ha proceduto con decreto dirigenziale dello scorso 30 luglio a stanziare 86.000 euro di fondi tanto costerà seguendo l'ordinanza pubblicata ieri 22 agosto e firmata dalla sindaca sicilia-francese condurre la massiccia opera che costringerà 37.000 battipagliesi a lasciare le proprie case a partire dalle ore 5 dell'8 settembre quando scatterà l'obbligo di abbandono dell'area di 1,6 km nel raggio della posizione dell'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale mentre gli artificieri opereranno Battipaglia sarà deserta non solo andrà liberato anche l'ospedale Santa Maria della Speranza si procederà a chiudere al transito la 2 del Mediterraneo e la linea ferroviaria nell'ordinanza che fissa l'attivazione del centro operativo comunale che troverà spazio all'interno dei locali della protezione civile battipagliese in via Gonzaga viene stabilito che le attività di sovrintendenza coordinamento e raccordo all'interno delle funzioni attivati e tra i singoli referenti nonché i contatti con gli organi istituzionali interessati faranno capo alla stessa sindaca francese coadiuvata dal dirigente del servizio di protezione civile il tenente colonnello Gerardo Iuliano anche a capo della Polizia Municipale e con funzioni di coordinatore del centro operativo comunale e dal dirigente del settore tecnico urbanistica del comune l'ingegner Carmine Salerno una macchina organizzativa imponente stilata di concerto con la prefettura che investe la questura il commissariato della Polizia di Stato il comando della Compagnia dei Carabinieri la regione la provincia la Polizia Municipale e il nucleo di protezione civile pesce di provenienza non certificata scatta il sequestro a Salerno l'operazione è stata messa a segno ancora una volta presso il centro agroalimentare ha riguardato ben 35 kg di cannolicchi il blitz è stato compiuto questa mattina dal nucleo della Polizia Municipale che opera presso il centro stesso che ha effettuato il controllo insieme all'ispettore sanitario di turno disposto alla confisca e alla distruzione del materiale individuato come non conforme alle regole il questore di Salerno ha promesso di intensificare i controlli e la presenza di forze dell'ordine nel comune di Giffoni sei casali si conclude con questa promessa la riunione del coordinamento per l'ordine pubblico alla quale ha partecipato anche il sindaco del comune dei Picentini dove sono registrati troppi furti negli ultimi tempi Giffoni sei casali chiede al questore più sicurezza ma non solo escalation di furti nelle ultime settimane il pascolo abusivo e sconfinamento nei terreni il rinvenimento di siringhe nel parco Pineta Sant'Anne la mancanza di rete e fibra ottica per la precisione sono queste le quattro priorità sulle quali il sindaco di Giffoni sei casali Francesco Munno ha chiesto attenzione partecipando all'ultima riunione del coordinamento sulla sicurezza e l'ordine pubblico presso la prefettura di Salerno la presenza del primo cittadino di Giffoni sei casali è stata motivata proprio per l'escalation di furti che si è registrata nei giorni scorsi nel comune dei Picentini il primo cittadino nel ringraziare i carabinieri e gli agenti della polizia municipale che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza sul territorio comunale ha chiesto il potenziamento di uomini e mezzi in forza alla stazione dei carabinieri e una maggiore sinergia tra le forze dell'ordine e a Giffoni sei casali saranno potenziati i controlli sul territorio a prometterlo al termine della riunione proprio il questore di Salerno Maurizio Ficarra massima disponibilità è giunta infatti dalle autorità presenti al tavolo che hanno recepito le stanze dell'amministrazione comunale e come dicevamo già dai prossimi giorni hanno garantito che saranno potenziati i controlli in paese per garantire alla popolazione tutta una maggiore sicurezza parliamo ancora di sicurezza ci spostiamo a Pagani dove il sindaco Alberico Gambino proprio per aumentare i livelli di sicurezza nel territorio del suo comune punta sui sistemi di videosorveglianza aumentare la sicurezza cittadina implementando un impianto di videosorveglianza presente sul territorio la volontà del sindaco di Pagani Alberico Gambino che ha annunciato l'installazione degli occhi elettronici anche all'interno della villa comunale una scelta tesa a garantire la tranquillità dei cittadini attraverso azioni svolte alla prevenzione al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e con l'avvicinarsi dei mesi invernali dove il primo cittadino prevede un rilancio dell'area pubblica in vista del Natale ho chiuso la settimana scorsa una partita importante per quanto riguarda la videosorveglianza su tutto il territorio comunale quindi metteremo delle videocamere anche in villa comunale pure perché per Natale in quell'area si respirerà un'area magica ho intenzione assolutamente di fare cose meravigliose per il Natale partendo appunto dalla villa incantata che così soprannomineremo nel periodo natalizio appunto nella villa comunale non solo telecamere ma anche illuminazione pubblica il primo cittadino ha annunciato gare d'appalto per la riqualificazione delle luci sta procedendo su due binari il primo di quello di fronteggiare l'emergenza quindi si sta appaltando e credo per tutta la settimana prossima si appalteranno i lavori affinché si possa fronteggiare questa emergenza e quindi è stata fatta una gara di appalto per questo quindi ci potranno cambiare le luci che sono spende ad oggi assolutamente poi c'è la gara di più ampio respiro e che mi auguro che si possa portare a termine già nei prossimi mesi quindi credo che entro fine anno si completerà anche quest'altro appalto in modo tale da mettere a punto tutta la pubblica illuminazione in intero perimetro urbano E c'è attesa domani per l'arrivo tra Battipaglia ed Albanella del ministro per l'ambiente Sergio Costa che viene a valutare da vicino l'impatto dell'emergenza rifiuti della sele Incontro pubblico con il ministro dell'ambiente Sergio Costa a Battipaglia Il momento di atteso confronto ufficializzato dall'amministrazione comunale retta dalla sindaca Cecilia-Francese si terrà domani sabato 24 agosto alle ore 11.30 presso la sala San Giuseppe della parrocchia San Gregorio VII Costa affronterà le tematiche ambientali di Battipaglia e della Piana del Sele dopo l'incendio all'azienda di rifiuti dello scorso 3 agosto nell'area industriale e con la piaga dei miasmi continuamente avvertita dai cittadini con il ministro che nel pomeriggio raggiungerà Albanella per il già annunciato aperitivo Plastic Free delle ore 16.30 in piazza Vittorio Veneto saranno presenti la senatrice Felicia Gaudiano il consigliere regionale Michele Cammarano e altri rappresentanti di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle Battipaglia intanto i locali comitati ed associazioni che da anni si interessano di tematiche ambientali fissano incontri per coordinarsi su come gestire ed organizzare l'incontro confronto con il ministro Costa al fine si legge di rendere la visita utile e proficua per la città e per il proseguo della nostra lotta Costa ha già incontrato due volte nel recente passato a Roma con un primo summit al Ministero dell'Ambiente il 15 febbraio e poi l'8 agosto scorso e a Cava dei Tireni fare i puntati sull'impiantistica sportiva sia a tenere banco in quest'ora è la vicenda Stadio scade il prossimo 18 settembre il bando per l'affidamento in concessione ai privati dell'area dell'ex velodromo che diventerà un parco dello sport per tutti c'è tempo fino al prossimo 18 settembre per presentare domanda di partecipazione alla gara per la concessione in gestione ad un soggetto privato dell'impianto sportivo denominato parco dello sport per tutti ovvero l'ex velodromo di via Idolongo l'obiettivo dell'amministrazione comunale sul quale sta lavorando alla cremente il consigliere Eugenio Canora è quello di consegnare alla città un'area che da troppo tempo verse uno stato di abbandono e degrado costata però alle casse comunali per una serie di interventi di riqualificazione oltre un milione di euro scade il 18 settembre la gara per la concessione in gestione dell'area ex velodromo oggi parco dello sport per tutti dove immaginiamo un parco dello sport quanto più inclusivo che mette insieme sia gli sportivi gli atleti con disabilità che diciamo gli atleti i ragazzi ma anche contro la dispersione scolastica e per l'inserimento anche degli atleti un po' più anziani per le famiglie abbiamo scelto un meccanismo di partnership con i privati ed ecco perché è in corso di svolgimento questa gara perché il comune deve scegliere un partner per la realizzazione di quest'opera che verrà a costare da un minimo di 150-180 mila euro per il ripristino delle condizioni di uso fino a quello che è nella fantasia del partecipante perché non c'è limite alla provvidenza anzi un unico vincolo c'è quindi quello di non aggiungere volumetrie però si può realizzare in quell'area un campo sportivo più campi sportivi anche coperti con tenso strutture perché no anche strutture interrate e quant'altro aree per famiglie eccetera abbiamo bisogno sul nostro territorio di imprenditori seri che vogliano realizzare attraverso lo sport anche un volano per il turismo e la crescita del territorio questo meccanismo di selezione è organizzato in modo che chi partecipa alla gara e se la giudica se realizza esclusivamente il minimo affarsi prende soltanto i primi 12 anni di gestione altrimenti fino a un massimo di 20 anni noi come ente pubblico possiamo fare insomma due promesse agli imprenditori che intendono partecipare a questa gara la prima è che la gara sarà una gara per sportivi e quindi che vincerà il migliore sia in termini di proposizione sportiva culturale inclusione sociale e i punteggi sono abbastanza chiari sono molto chiari quelli impostati in gara e la seconda è che anche dopo la giudica della gara l'ente avrà sempre un occhio attento per la restituzione diciamo di quei piccoli problemi che nella poi realizzazione di questo progetto sportivo si potranno andare a determinare di nuovo insieme i presidi empa deboli ad ascea del progetto Nate e libere dedicato alle tartarughe caretta caretta diventano high tech nelle ultime ore 124 piccoli tartaruga nati ad ascea e ad eboli vediamo sono 124 i piccoli di tartaruga caretta caretta nati nei siti di ascea ed eboli nelle ultime ore subito dopo la schiusa le piccole tartarughine si sono dirette verso la battigia e da lì verso il mare sotto l'occhio attento dei volontari dell'ente nazionale protezione animale e dei biologi della stazione Antordorna il grosso delle nascite ha però spiegato l'empa è atteso per i prossimi giorni i due siti salernitani quello di ascea e di eboli rientrano nel progetto è impannate libere attivo dal 2017 e teso a tutelare in campagna e in puglia le tartarughe l'iniziativa ha potuto compiere un importante salto di qualità grazie alla donazione della fondazione capellino tre sistemi energia solare ciascuno dei quali è composto da un generatore accumulatore da torci ad infrarossi e dagli immancabili pannelli solari i sistemi sono stati installati proprio nei presidi di ascea ed eboli i dispositivi solari così permettono ai siti di monitoraggio di essere pienamente autosufficienti sull'approvvigionamento elettrico tutta l'energia necessaria ad alimentare le luci di illuminazione del campo i computer le altre attrezzature durante la stagione della nidificazione della schiusa viene prodotta direttamente in loco riducendo al minimo l'uso delle batterie usa e getta batterie che sono costose oltre ad essere molto inquinanti vediamo ora un'occhiata alla pagina degli appuntamenti chiusura estiva per il Cinemateatro San Demetro di Via Dalmazia Salerno fino al prossimo 20 agosto si riapre mercoledì 21 agosto con la proiezione del film in uscita nazionale Il Re Leone tra gli spettacoli alle ore 17 alle 19.30 e alle 22 ingresso unico 7 euro ridotto 5 euro il giovedì non festivo ingresso unico 5 euro per informazioni 089 2204 89 www.cineteatrosandemetrio.it Al centro commerciale di Fratte Le Cotoniere ti aspetta un'altra avventura alla Sherpa Vertigineus Fan dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 21 il sabato la domenica e il ferragosto dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 21 in galleria per vivere questa nuova emozionante avventura di forza equilibrio e coraggio centro commerciale Le Cotoniere Via De Greci Ci affrate Andiamo Ti divertirai Te lo prometto Ci saranno le previsioni del tempo e poi dopo la pubblicità la pagina dello sport a tra poco In collaborazione con P-Form è ente di formazione accreditato dalla Regione Campania offre servizi rivolti a tutti coloro che vogliono investire nella propria formazione e fornisce risposte efficaci a soddisfare il bisogno di sviluppo delle professionalità P-Form è agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sempre a fianco di aziende e lavoratori per promuovere l'incontro tra domanda e offerta P-Form Salerno P-Form Previsioni per domani al mattino sulle coste parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita nel pomeriggio sulle coste schiarite prevalenti ma con possibili brevi temporali in montagna nudi irregolari con deboli temporali Previsioni del tempo fornite da 3B Meteo Siamo alla pagina dello sport torniamo ad occuparci della Salernitana che domani sordirà in campionato contro il Pescara abbiamo detto dell'emergenza in difesa dove mancherà Bill Long e sulla fascia destra dove non ci sarà Lombardi al loro posto Migliorini e Cicerelli Gian Piero Ventura in conferenza stampa questa mattina ha fatto il punto della situazione anche sul mercato e ha chiesto altri due difensori centrali Allora abbiamo avuto due problemi uno di Bill Long che ha messo il piede in una buca ha fatto una distorsione una distorsione ci siamo spaventati perché pensavamo fosse qualcosa di più invece credo che non sia niente di gravissimo e Lombardi che ha avuto un piccolo indorenzimento muscolare perché un piccolo indorenzimento muscolare che questo gli preclude la possibilità di giocare gli altri stanno bene gli altri si sono allenati tutti siamo alla vigilia di un campionato con la voglia e l'entusiasmo di fare bene è un gruppo assolutamente positivo e propositivo che ha fatto un buonissimo lavoro in tutti questi in questi 30 giorni che siamo stati insieme c'è la volontà di fare molto come tutte le cose alcune cose siamo già avanti altre c'è da lavorare ma questo fa parte in un percorso di crescita normale che sia così quindi sono assolutamente soddisfatto di quello che hanno fatto fino ad oggi della disponibilità della voglia poi è chiaro che margini di miglioramento mostruosi immagino meglio sicuramente quello sicuro certo che sì io sono ho detto che sono contentissimo di quello che è stato fatto oggi ma sanno perfettamente che saremo sia no neanche al 50% delle nostre potenzialità si giocherà ci c'era adesso cosa può cambiare nello scacchiere tattico come lo inquadra se ce lo presenta un po' dal punto di vista tecnico-tattico e tutto il giocatore impresso dalla Lazio questo cosa significa insomma addirittura di preparare anche qualche giocatore in ottica Lazio oppure io penso solo la serenità perché sono la serenità ci mancherebbe altro che pensassi anche alla Lazio no allora bisogna essere prima rispondo dall'ultima l'arrivo dei giocatori probabilmente adesso io non entro in merito ad un discorso societario perché non è di mia competenza e non sono neanche a conoscenza però è evidente che per far arrivare un giocatore in presto gratuito lo può fare qualsiasi società se c'è un esborso di denaro è un esborso che non è centomila ma magari sono due milioni è evidente che ci deve essere un intervento quindi e allora è altrettanto evidente che nel momento che c'è un intervento c'è un passaggio ma credo che sia soprattutto per questo assolutamente nessuno mi ha mai detto dobbiamo poi è chiaro che voglio dire non è lo stesso proprietario o forse sì non lo so adesso come funziona il meccanismo però è evidente che è come quando Anderson che io avrei voluto Anderson quello che adesso è la Lazio perché è un giocatore di qualità quindi la qualità non si rifiuta mai quindi io l'avrei voluto assolutamente ma l'hanno tenuto loro perché domani quelli che sono qui che adesso immaginiamo che io sia l'allenatore immaginiamo una cosa un po' utopistica ma è chiaro che se ci ho lavorato un anno e lo voglio tenere lo tengo non è che me lo portano via ci mancherebbe altro poi è chiaro altrettanto è evidente che se un giocatore esplode e ha potenzialità da grande squadra è evidente che poi deve andare giustamente in una grande squadra allora invece di andare al Milan va alla Lazio più o meno credo che sia il meccanismo è questo cioè non cambia il giocatore è un giocatore che secondo me non è pronto tanto per essere chiari cioè è pronto dal punto di vista fisico nel senso che ha già fatto i preliminari di Champions di Europa League però non è pronto perché non conosce il campionato italiano e soprattutto non è pronto ai ritmi del campionato italiano quindi bisogna dargli il tempo è un giocatore stavo per dire spero è un giocatore di qualità assoluta dal punto di vista tecnico però è chiaro che deve prima calarsi nella parte del campionato italiano in generale e di Serie B in particolare quindi bisogna dargli il tempo quindi non sarà un giocatore pronto nell'immediato ma anche questo fa parte di un percorso di crescita tanto che chi abbiamo abbiamo siamo contenti di quello che abbiamo siamo alla vigilia della partenza anche del campionato di Serie C vediamo come si stanno preparando all'esordio Cavese e Paganese si sa sono i centri avanti a poter cambiare le sorti del campionato di una squadra se ne hai uno da doppia cifra gli obiettivi prefissati inizio stagione si avvicinano con la possibilità di sorprendere la concorrenza l'ingaggio di Nando Sforzini per esempio da parte della Cavese è non solo tra l'altro un colpo grosso sotto l'aspetto tecnico-tattico ma anche mediatico perché l'arrivo del forte centro-attacco concentrerà più attenzioni dei media su una squadra quella del presidente Santorillo che è certamente tra le outsider del gironici di terza serie nella griglia di partenza sulla carta la Cavese è certamente nelle prime file subito dietro le battistrada Bari e Catania unico neo il dover giocare lontano dal Simonetta Lamberti in un impianto solitamente ostico al menti di Castellammare è divenuto però negli ultimi anni amico la Cavese contro il Picerno punterà subito a mettere in chiaro le sue ambizioni match che inizierà di sera alle 20.45 i tifosi della Paganese invece aspettano ancora il loro bomber certo ci sono giovani interessanti in amanti che Francesco Scarpa potrà svezzare al meglio ma per arrivare a una punta di qualità consacrata e di categoria bisognerà aspettare che vengano chiuse le liste forse delle rose di A e B così da potersi muovere senza patos la Paganese dovrà cercare di affrettare i tempi per non sbagliare gli obiettivi prefissati una punta ma non solo dall'amichevole con la Scafatese e non solo è emerso che serve anche un altro difensore la gara con la Viterbese di domenica Pomoriggio debutto in campionato sarà diretta dal signor Cosso di Raggio Calabria stabilito anche che il primo match interno col Monopoli si giocherà in anticipo il sabato sera 31 agosto alle 20.45 era questo l'ultimo servizio non mi resta che salutarvi da vi appuntamento alle prossime edizioni grazie per la cortesia attenzione a risentirci vuoi rivedere questo programma visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su tvogiondinand 2 2 3 3 5 5 6 10 12 14 15